Cosa accade alle scuole pescaresi e in particolare al Comprensivo 1? Il Comprensivo 1 viene accorpato all'Istituto Comprensivo 7 e la periferia di Pescara, quella anche più critica e più a rischio abbandono scolastico, verrà completamente privata di un presidio istituzionale come quello di una dirigenza scolastica. Perché? Perché c'è una politica di dimensionamento che è stata fatta in modo non funzionale, contrariamente a quanto invece afferma il Presidente della provincia in una relazione inviata il 27 dicembre alla Giunta regionale. In questa relazione lui dice che questo accorpamento, Istituto Comprensivo 1 e Istituto Comprensivo 7, è più funzionale rispetto all'accorpamento precedentemente deciso all'interno delle conferenze dei servizi presso la provincia sull'Istituto Superiore Mantonè e la di Marzio. Quindi si lasciano le due dirigenze delle superiori e si accorpano due dirigenze di due istituti comprensivi molto complessi, complessi nei numeri di ragazzi stranieri, di ragazzi con disabilità e di ragazzi Roma. E l'amministrazione Masci accetta supinamente questa decisione? Beh, noi vorremmo delle risposte perché di fatto abbiamo piuttosto visto l'assessore Santilli e il sindaco andare ad inaugurare l'Istituto Comprensivo 3 e la nuova sede, ma non hanno espresso alcun parere e alcun giudizio su questo taglio. Una vicenda da chiarire già nel Consiglio Comunale straordinario che le minoranze di centro-sinistra hanno chiesto al Presidente Antonelli.